Buongiorno e bentornati sul mio canale. L'argomento di oggi è il diaframma, un muscolo importantissimo, anzi probabilmente il muscolo più importante in assoluto all'interno del nostro organismo, a cui però non si dedica ancora la giusta importanza. E l'obiettivo di questo video è proprio questa, sottolineare le principali funzioni in cui il diaframma è coinvolto in modo tale da sottolineare la sua importanza e il motivo per cui dovremmo dedicargli più tempo sia nei trattamenti che in palestra. Vi consiglio di rimanere fino alla fine di questo video in cui andremo a spiegare e a vedere insieme tutta una serie di esercizi pratici per recuperare la piena funzionalità di questo muscolo. Come sempre dopo la sigla. In questa prima fase andremo a spiegare tutta una serie di connessioni anatomiche e fisiologiche in cui il diaframma è coinvolto, perché sappiamo che questo muscolo è molto importante ma probabilmente non abbiamo capito bene a fondo il perché. Una prima funzione, quella più conosciuta ma allo stesso tempo la più importante proprio perché è vitale, è la funzione respiratoria. Il diaframma è un muscolo molto ampio che si inserisce al di sotto delle nostre costole, circonda tutta la gabbia toracica e va a inserirsi anche dietro alla giunzione tra la zona dorsale e lombare della nostra colonna vertebrale. Durante la respirazione il diaframma ha un movimento a stantuffo. Quando inspiriamo tende a scendere verso il basso e quando espiriamo tende a risalire verso l'alto. Il fatto di avere una buona escursione corrisponde ad avere una buona ampiezza della respirazione e quindi una buona ossigenazione dei tessuti. Ma il fatto che sia un muscolo attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, dal primo all'ultimo giorno della nostra vita, fa in modo che il diaframma sia probabilmente il muscolo più utilizzato in assoluto. E se a questo aggiungiamo il fatto che la postura bipede tende a portarlo in accorciamento, abbiamo già elencato due motivazioni per la quale è così facile trovare delle disfunzioni del diaframma che portano spesso a una sua rigidità. Infatti un diaframma rigido e che non ha una buona escursione muscolare in ispirazione o in espirazione, fa sì che per respirare correttamente noi dobbiamo attivare quelli che sono definiti i muscoli respiratori accessori, molti dei quali si inseriscono proprio nella zona cervicale. E quindi questa può essere una connessione tra una disfunzione del diaframma e un aumento delle problematiche a livello cervicali, come dolori, rigidità e scarsa mobilità, che così spesso colpiscono le persone al giorno d'oggi. Se infatti non abbiamo una buona escursione del diaframma, saremo costretti a respirare in maniera più toracica e quindi a fare movimenti di questo tipo che sul lungo periodo possono portare appunto a rigidità o dolori a livello cervicale. Va ricordato che il diaframma è innervato dal nervo frenico, un nervo che origina a livello cervicale all'incirca dalle vertebre centrali del nostro collo, che quindi può scatenare dolore in questa zona, a partenza da una problematica appunto del diaframma. Un altro ruolo fondamentale del diaframma è quello posturale, perché per quello che abbiamo detto prima, per le sue inserzioni sulle costole, ma soprattutto sulla colonna vertebrale, nella giunzione dorso-lombare, il diaframma può essere considerato un vero e proprio muscolo posturale, perché anche qui se la sua funzionalità è piena e completa, questo muscolo non interferirà troppo con la nostra postura. Viceversa, se va incontro a una rigidità o una disfunzione, il fatto che si inserisca proprio su quella giunzione dorso-lombare farà in modo che quelle vertebre siano più rigide e che non ci sia un corretto svincolo in rotazione, ad esempio durante il movimento della camminata. In più, la postura seduta, così comune in tantissimi lavori al giorno d'oggi, tende a portare il diaframma in accorciamento, in disfunzione, e questo a sua volta può portare a posture scorrette, come ad esempio la chiusura cifotica anteriore o la chiusura delle spalle, che sul lungo periodo possono portare a altre problematiche e dolore di vario tipo. Ricordiamoci anche che il diaframma ha una connessione diretta con il pericardio, ovvero quel sacchetto fibroso, diciamo così, che avvolge il cuore, che a sua volta è connesso con dei legamenti alle vertebre dorsali. Quindi anche qui una disfunzione del diaframma può portare una tensione che noi avvertiamo tra le scapole, ovvero proprio dove si inseriscono questi legamenti. Questi sono tutta una serie di esempi che connettono le disfunzioni del diaframma con problematiche posturali. Una terza importantissima funzione del diaframma è quello di regolatore di pressioni. All'interno del nostro addome infatti c'è una pressione positiva che tende a spingere da dentro verso fuori, mentre all'interno del nostro torace c'è una pressione negativa, che è quella che ci permette di espirare senza fare grossa fatica, proprio perché c'è questa pressione che da fuori spinge verso dentro invece. E il diaframma, trovandosi proprio al confine tra addome e torace, funge anche da regolatore di questa pressione, positiva al di sotto e negativa al di sopra, che è fondamentale per il mantenimento della postura eretta. Molto spesso tutta una serie di problematiche come l'ernia addominale, l'ernia inguinale, l'ernia ietale, ovvero quella che coinvolge il nostro stomaco, piuttosto come disfunzione del pavimento pelvico, come prolassi terini o emorroidi, possono essere ricondotti in qualche modo a queste disfunzioni di pressione che a sua volta possono dipendere appunto da una disfunzione del diaframma. Una quarta importantissima funzione del diaframma è quella sull'apparato circolatorio. Infatti nel passaggio tra il torace e l'addome, proprio dove sta il diaframma, passano tantissimi vasi molto molto importanti, come la orta, che porta il sangue dal cuore verso la periferia, o come la vena cava inferiore, che porta invece indietro tutto il sangue dagli arti inferiori e dagli organi verso il cuore. In questo passaggio troviamo anche il dotto toracico che si occupa invece di portare la linfa, che da tutta la parte inferiore del corpo deve tornare verso il torace, e tutti questi vasi passano attraverso dei fori all'interno del diaframma. Quindi capiamo come un diaframma perfettamente funzionante oppure rigido e disfunzionale possa favorire o d'ostacolare proprio la circolazione dei fluidi, e quindi l'andata e il ritorno del sangue e della linfa nelle varie zone del nostro corpo. Altro importantissimo ruolo del diaframma è quello sulla digestione. Appena al di sotto del diaframma sono connessi il fegato, lo stomaco e gli angoli del colon ascendente e discendente, e il movimento respiratorio a stantuffo del diaframma di cui abbiamo parlato prima è un movimento che favorisce la peristalsi, ovvero il movimento del cibo che introduciamo del bolo alimentare lungo tutto il tratto dell'intestino, favorendo appunto una corretta mobilità e motilità intestinale e contribuendo a prevenire problematiche come la stipsi ad esempio. Tra l'altro all'interno del diaframma c'è un altro foro che dà passaggio all'esofago prima che diventi stomaco, ed è proprio il diaframma con un suonello muscolare che restringe o apre la cosiddetta bocca dello stomaco favorendo il passaggio degli alimenti. Un diaframma particolarmente rigido però può stringere troppo o essere troppo largo e contribuire in qualche modo ad accentuare problematiche come l'ernia iatale o il reflusso gastroesofageo. Un'altra connessione del diaframma è quello legato alle emozioni, infatti se ci pensiamo tutta una serie di emozioni diciamo così negative come l'ansia, lo stress o preoccupazioni ricorrenti portano ad un blocco inspiratorio e questo è un motivo per cui tantissime persone percepiscono queste emozioni negative proprio sulla bocca dello stomaco. Imparare a muovere correttamente il diaframma imparando a gestirlo e a respirare correttamente permette anche di rilasciare queste tensioni e contribuisce non da solo ovviamente a gestire correttamente tutta questa serie di emozioni negative. Ora andiamo a vedere tutta una serie di esercizi pratici che potete iniziare a fare sin da subito per prendere coscienza della mobilità del vostro diaframma e iniziare a muoverlo correttamente. Un primo esercizio che può risultare molto molto utile per prendere confidenze con il nostro diaframma consiste semplicemente nel distendersi a pancia in su con le gambe flesse rilassando le braccia lungo i fianchi. Da questa posizione possiamo semplicemente iniziare a inspirare cercando di gonfiare il più possibile il nostro addome per poi espirare cercando di sgonfiare completamente. Cercate di concentrare il movimento completamente sul vostro addome senza andare a muovere il torace o muovendolo il meno possibile, quindi dovrebbe essere una respirazione che coinvolge appunto in ispirazione e in ispirazione soltanto il vostro addome senza fare movimenti di torace. Quando avrete preso confidenza con questo esercizio potrete farlo magari con le gambe distese cercando di rilassare bene i piedi verso l'esterno concentrando sempre un movimento di ispirazione e espirazione che coinvolga praticamente soltanto il nostro addome. Per percepire meglio il movimento in questa zona potete utilizzare ad esempio un libro da appoggiare sul vostro addome in modo tale che con un leggero peso posto al di sopra riusciate a percepire meglio appunto dove il movimento deve esplicarsi. Un secondo esercizio per aumentare la funzionalità del nostro diaframma può essere quello di prolungare le fasi inspiratorie ed espiratorie e quindi ad esempio concentrarci sul fare 4-5 secondi di ispirazione gonfiando sempre bene e al massimo il nostro addome seguiti da altri 4-5 secondi di espirazione svuotando completamente i polmoni. Sarà molto molto più difficile inspirare in maniera lenta e prolungata mentre probabilmente vi risulterà molto più semplice riuscire a espirare in questa fase. Concentratevi sul prolungare sul mantenere rilassata la vostra colonna aumentando appunto l'escursione del vostro addome durante le fasi inspiratoria ed espiratoria e poi provate anche qui a fare lo stesso esercizio a gambe distese rilassando bene i piedi verso l'esterno. Un terzo step può essere quello di eseguire lo stesso esercizio con un braccio disteso sopra la testa in modo da enfatizzare maggiormente il movimento su un lato del diaframma. Anche qui cercheremo di inspirare coinvolgendo soprattutto il movimento del nostro addome ed espirare esattamente come abbiamo detto prima. Allo stesso modo poi potrete cambiare braccio per enfatizzare il movimento sul lato opposto del vostro diaframma sempre inspirando ed espirando in maniera lenta e controllata. Questo gruppo di esercizi può essere utilizzato come uno step iniziale per iniziare a prendere confidenza con il nostro diaframma. Per aumentare l'intensità dell'esercizio potremmo farli anche in posizione seduta o in piedi sempre cercando di rispettare il più possibile le curvature della nostra colonna e cercando di ampliare il più possibile l'escursione e l'ampiezza della respirazione in modo da stimolare la piena funzionalità del nostro diaframma. Per concludere tutta una serie di consigli pratici per prendervi cura del vostro diaframma. Cercate di dedicargli il giusto peso e la giusta attenzione imparando a respirare correttamente anche quegli esercizi che abbiamo appena visto e dedicandogli qualche trattamento anche solo una o due volte l'anno in modo da prevenire tutta una serie di problematiche che potrebbero avere delle ricadute come abbiamo visto a 360 gradi sul nostro organismo. Ove possibile cercate di limitare lo stress cronico che ha ricadute devastanti su tutto il nostro organismo diaframma in particolare e come sempre cercate di impostare un corretto stile di vita praticando attività fisica in maniera regolare, un'alimentazione corretta e bilanciata e in generale un corretto stile di vita a 360 gradi. Io come sempre spero che questo video vi sia stato utile spero di essere riuscito a spiegare l'importanza a 360 gradi del nostro diaframma e le sue mille connessioni e quindi le sue mille ricadute che può avere sul nostro organismo. Vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella e magari a lasciare un like in modo tale che questo video possa arrivare a più persone possibile. Intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. A presto!